Ciao a tutti, oggi vi farò vedere un nuovo nodo, se hai un robot, tu sai un pochino qual è, ma non nella nostra lingua, capito? Quindi, ve lo faccio subito sentire, dai, sentite. Così parla per il mio cielo, per farlo, cammina anche, guardatelo. Aspetta dai. Avete visto? È del fighissimo, me l'ha regalato mio non credendo che mi fosse, ma io l'ho fatto pian pianino. E quindi, lo potete comprare anche al numero, aspettate, mi telefonate, questo se lo volete, mi telefonate al numero, ve lo dico subito. Aspettatelo un attimino. Aspettatelo un attimino. A tre, due, sette, nove, sette, cinque, due, due, sei, quattro. Ve lo ripeto. Tre, due, sette, nove, sette, cinque, due, due, sei, quattro. Questo orologio è in vendita da oggi fino al 1 dicembre. Dopodiché non è più in vendita. E costa 5 euro. E dopo c'è anche delle carte di odio, che anche queste sono bellissime, sono fortissime. E costano, queste costano soltanto due euro. E allo stesso numero, mi telefonate, sono disponibili dal lunedì al venerdì, dal sabato e domenica. Ehm, scusate un attimo. Dalle dieci alle sette. Quindi, se volete, mi telefonate. Ehm, dopo, beh, la telefonata vi dico anche dove abito. E così, avanti. E allora, costa solo l'orologio e qui le carte, fanno tutto sette euro. Se volete solo le carte, due euro. Se volete solo l'orologio, cinque euro. Quindi, mi telefona per informazioni al numero seguente. Tre, due, sette. Non aspettate. Tre, due, sette. Nove, sette. Cinque, due, due, sei, quattro. Per informazioni a questo numero. Quindi, se volete, l'informazione sull'orologio e quanto costa. Ehm, beh, farò vedere anche degli altri video in quali ci saranno altre cose in vendita. Quindi, questa farò anche dei altri video. Quindi, ci vediamo nelle prossime puntate di Negozio Super. Quindi, ciao a tutti, ciao! Ci vediamo la prossima volta, ciao! Ciao!